Tutto nasce da una proposta dell'editore Giuseppe La Terza che per la prima volta ha deciso di pubblicare sotto l'insegna della sua gloriosa casa editrice una collana di libri illustrati per ragazzi. È qualche anno che l'editore si muove su terreni nuovi prima con la collana Contromano che è la prima incursione nella narrativa per una casa editrice che di solito è nota per la saggistica e per i testi universitari e poi con questa nuova collana Scela Canto che è stata lanciata negli ultimi mesi di fatto e che ha una vocazione precisa, quella di pubblicare libri in cui l'illustrazione sia centrale un po' come erano i vecchi libri illustrati per ragazzi di inizio secolo scorso insomma che abbiano attinenza con degli eventi storici reali per cui ce n'è uno che è dedicato all'infanzia di Giulio Cesare per cui si spazia dalla storia antica a quella medievale e moderna. In questo caso contemporanea è un'avventura reale di poco più di un secolo fa quella che ha ispirato questo racconto nonché è una delle avventure di montagna più importanti e probabilmente la più importante per quanto riguarda un esploratore del nostro paese, un esploratore di sangue blu come il Duca degli Abruzzi che insomma come tutti sanno ha intitolati a proprio nome decine di rifugi, ricoveri, sentieri e quant'altro proprio perché a differenza di altri Savoia ha consacrato la sua vita all'esplorazione e all'avventura e in particolare nel novero dei suoi viaggi è rimasto memorabile quello nel Caracorum svolto con l'intenzione di esplorare e scoprire se ci fossero state vie possibili per salire sul K2. Il viaggio nella realtà si è risolto con degli obiettivi che sono stati raggiunti come quello di cartografare per la prima volta l'Alta Valle, quindi il Baltoro e le cime vicine ha ottenuto un altro risultato fondamentale dal punto di vista dell'epica sportivo-alpinistica di allora, cioè di stabilire il record di altitudine, nessuno era mai stato così in alto all'epoca e risultato invece che si è potuto apprezzare in prospettiva ha individuato la via giusta che poi nel 54 sarebbe stata seguita dalla spedizione italiana che ha effettivamente per la prima volta ha messo piede sulla vetta. Sulla vetta del K2, dunque non raggiunta di fatto un obiettivo che non è arrivato e quella parte di quell'avventura in questo libro tra l'altro non c'è, insomma in qualche modo non sveliamo troppo ovviamente del contenuto ma l'avventura del ragazzo protagonista è il resto del viaggio quindi indipendentemente da quello che poi ha affermato gli alpinisti italiani verso la vetta del K2, tutto quello che è stato importante è davvero come spesso si dice il viaggio Sì, se è vero come dicevano i pellegrini medievali io credo che sia vero ancora oggi che l'uomo che arriva alla fine di un viaggio non è mai lo stesso che era partito questo vale forse ancora di più quando il viaggio viene affrontato da qualcuno che è in un'età ancora verde i viaggi che facciamo da ragazzi, le avventure che viviamo da ragazzi sono quelle che ci plasmano e ci segnano nella maniera più profonda, io sulla vicenda reale, sulla vicenda storicamente attestata ho innestato un filone di fiction, di fantasia, inserendo un personaggio nuovo che non ha fatto parte nella realtà della spedizione ma che mi sono divertito a immaginare e cioè il nipote di uno dei componenti della spedizione, il nipote di uno dei sodali del Duca degli Abruzzi che è il Milo a cui è dedicato il titolo dell'opera e nel solco dei romanzi, delle storie che hanno a che fare con viaggi di formazione è stato divertente immaginare che un ragazzino nell'età che oggi diremmo delle scuole medie grossomodo potesse unirsi a dei professionisti dell'avventura esploratori, medici, fotografi d'alta quota i pezzi grossi del CAI dell'epoca per intenderci per vivere un'avventura parallela lui chiaramente non avrebbe potuto far parte del gruppo di punta che tentava l'assalto alla vetta e come ricordavi non è sul gruppo di punta al fuoco della storia quanto sul viaggio che porta questo ragazzino in un mondo nuovo a visitare una delle cose che colpisce di più quando leggiamo le cronache delle spedizioni di quegli anni è quanto fossero lunghi viaggi di avvicinamento non si poteva chiaramente andare in aereo non si poteva chiaramente sfruttare mezzi a motore sopra certe quote e quindi il viaggio stupefacente di Milo ha a che fare con un'altra delle particolarità delle valli del Caracorum ossia che corrispondono poi alle origini, alle sorgenti del fiume Indo il fatto che siano stati il punto più orientale raggiunto dalle armate di Alessandro Magno nel loro viaggio e Milo da bravo studente, questa cosa la sa poi bravo studente, insomma è anche un po' indisciplinato giocava battaglia navale da studente in ogni caso non gli è sfuggito questo particolare suggestivo la sua avventura ha a che fare di fatto con un'amicizia in attesa un'amicizia oggi diremmo interculturale con un ragazzino che è figlio del capo dei portatori della spedizione dell'etnia dei Ladachi e con la meraviglia per i nuovi costumi e le nuove terre che si trova ad attraversare e poi a risalire e con qualcosa che ha a che fare con il tesoro che gli uomini di Alessandro Magno avrebbero lasciato da quelle parti Il segreto del caracorco come Enrico Brizzi si scopre autore per bambini? Cambia qualcosa? Mi scopro autore per bambini scoprendomi narratore a voce per le mie figlie una cosa che prima naturalmente di diventare padre non mi era capitato mi sono accorto che le mie bambine ma come penso tanti altri bambini i ragazzini camminano volentieri con uno zaino in spalla fino a quando il genitore, l'adulto che è con loro non smette di raccontare per cui non si possono fare tragitti troppo impervi perché altrimenti ci si ritrova col fiato corto ma la cosa bella è che se non ci si stanca di inventare storie elaborate i ragazzini camminano anche 7-8 ore al giorno E' un percorso di formazione anche quello di Milo insomma quindi un libro per bambini non per ragazzi ma comunque la voglia di raccontare come si cresce è rimasta in Enrico Brizzi Ma credo che il tema del come si cambia come si cresce se si pensa ai più giovani o da adulti quali sono le esperienze che ci trasformano in qualcun altro o in una persona più completa o più consapevole e si hanno insieme all'amore e all'amicizia uno dei temi di tutti i libri del mondo sostanzialmente di tutte le storie del mondo quando mi trovo a parlare di scrittura ai ragazzi più giovani capita molto spesso di incontrare persone che nonostante l'età verde hanno un grande talento però a volte non mettono a fuoco ma basta poco per farglielo presente la differenza fondamentale tra un flusso di parole e una storia la caratteristica di una storia è che il protagonista o la protagonista vivono delle esperienze che da pagina 1 a pagina ultima li cambia succede qualcosa che cambia il loro stato e li trasforma per l'appunto in persone nuove e questo vale per l'Iliade, l'Odissea, Adamo ed Eva Gian Burrasca, i Promessi Sposi vale per la storia del mondo come il viaggio come si diceva prima poi il concetto è ripetuto anche in questo libro quando si arriva non si è mai la persona dell'inizio quando si finisce un libro si è diversi quindi anche i protagonisti così come chi lo legge forse è la doppia magia della narrazione credo che sia proprio questa da un lato sono cambiati i personaggi dall'altro è cambiato chi legge o chi ascolta e aggiungerei forse la magia è tripla perché è cambiato anche il narratore ogni volta che si comincia una storia nuova e si arriva alla fine io personalmente ne parlavo ieri con i ragazzi del premio Montagna Avventura promosso da Itas e hanno un sacco di domande tecniche del tipo ma bisogna farsi una scaletta bisogna rispettarla la mia opinione è che sia necessario farsi una scaletta mentale o grafica insomma e poi aggiustarla via via esattamente come il piano di viaggio quando si parte non puoi prevedere prima se ci sarà la giornata estremamente favorevole che ti permette di coprire più distanza di quella prevista o la giornata di grandine in cui guadagnare ogni metro diventa un'impresa o muoversi su delle roccette bagnate addirittura sconsigliabile devi cambiare itinerario e passare più in basso però quello che secondo me è sempre valido è che a un certo punto chi crea la storia smette di decidere cioè c'è un momento in cui devi inventare perfezionare correggere e c'è un momento in cui l'unica fase della storia che non va secondo me non è necessario programmare è la sua conclusione esattamente come in un viaggio è inutile dire non lo so parto a piedi da Canterbury lungo l'antica via Francigene voglio arrivare a Roma l'unica domanda che non ha senso farsi è ma come mi sentirò quando arrivo a Roma cioè arriva ci vedrai che scopri come ti sentirai non serve prevederlo e allo stesso modo quando si scrive una storia o quando la si improvvisa a voce il finale è l'unica cosa che non è necessario programmare quindi sulla scaletta di Brizzi non c'è il finale il finale è un motivo semplice che se la storia è buona a un certo punto i personaggi di carta o così evocati a parole diventano come persone vere e non potranno che agire in una sola maniera se sono coerenti è come all'inizio sono degli sconosciuti non sai cosa aspettarti da loro man mano che cammini con loro man mano che mandi avanti la loro storia diventano persone vere allora sai che cosa puoi aspettarti da loro come sai cosa puoi aspettarti da tuo fratello o da la persona con la quale condividi la tua vita e non potranno che agire in una sola maniera per cui l'unica cosa che non si non serve prevedere esattamente cosa faranno all'ultimo momento e qual è il momento in cui una storia è finita esattamente come un viaggio la storia è finita quando senti che c'è l'ultimo passo da fare e anche se sei un non lo so un personaggio rude e con la barba ispida ti viene da piangere perché dici oh cavolo è veramente finita ci resti male te per primo e poi speri che nel caso di una storia magari ci resti male anche chi la legge però è quello che mi succede alla fine di ogni viaggio di ogni viaggio e di ogni libro sì evidentemente intanto Luca Caimmi sta disegnando proprio la storia Milo e il segreto del caracorum quindi vignetta dopo vignetta prima c'era il punto di partenza non di partenza della spedizione che era ben ben più lontano ma di partenza in India della spedizione quindi già qui un pezzettino di viaggio è stato è stato affrontato e siamo a Rubenzori quindi da lì Africa ah sì è lo zio che le altre esplorazioni dello zio precedenti quindi lo zio esperto che porta con sé poi il nipote altre illustrazioni per raccontarci quello che poi ritroviamo in queste pagine questo è il campo base invece del caracorum quindi questa esplorazione che ha portato il ragazzino al seguito dello zio e del duca degli abruzzi a vivere questa questa avventura l'avventura poi abbandona un po' questa spedizione il ragazzino meglio vive questa avventura proprio perché è curioso e ha voglia di scoprire qualcosa di scoprire cosa c'è attorno di vedere dove si trova e di farlo assieme ad un altro ragazzo quindi di cui non conosce nulla neppure la lingua insomma con cui interfacciarsi eppure assieme vivono questa grande avventura questo è un po' una delle morali del libro penso di sì credo che ognuno di noi abbia provato quando si mette in gioco in un viaggio poi ognuno secondo il suo livello tecnico sul K2 ci vanno in pochi alla fine ma ci sono altri viaggi che sono tecnicamente a disposizione di tutti quanti basta aver voglia di farli ricavarsi il tempo per partire partire effettivamente hanno la caratteristica di demolire le nostre certezze e di essere ogni volta anche dei viaggi oltre che nello spazio nel tempo perché ci troviamo sempre a camminare su orme già tracciate da altri in sostanza tranne che nel caso veramente delle prime alpinistiche ma anche quelle si svolgono magari fino a una certa quota lungo le vie che sono state individuate o aperte da chi è arrivato prima di noi e oltre a un viaggio nello spazio e un viaggio nel tempo sono sempre dei viaggi dentro e contro i nostri pregiudizi ogni volta impariamo qualche cosa di nuovo ogni volta partiamo con l'idea di sapere esattamente come sono gli abitanti di quel posto o come saranno i sapori che incontreremo perché è più forte di noi provare a mettere le mani avanti e immaginarci che cosa ci si deve aspettare invece il bello è proprio che ci si tuffa che si viene smentiti regolarmente rispetto alle aspettative e in questo caso è possibile anche diventare amici di qualcuno di cui non conoscevi l'esistenza che ritenevi diverso che ritenevi inferiore che ritenevi troppo superiore e ogni volta sono delle belle sorprese un'altra cosa bella è stato che questo libro è stato anche un viaggio in un certo senso nel tempo dal punto di vista editoriale abbiamo deciso di adottare una carta che richiama la carta vintage come dicono insomma vecchio stile una carta pesante l'idea sì l'idea era anche di creare una sorta di patto collettore per cui plausibilmente determinati disegni hanno evocano diciamo le sensazioni che può provare il ragazzino così come c'è un'altra tematica tipicamente adolescenziale pre-adolescenziale che è quella del primo amore che è raccontata e disegnata con una delicatezza secondo me tipica delle storie da corriere dei piccoli di cento anni fa che oggi magari non riscontriamo nei programmi televisivi o sui social network rivolti ai tredicenni e quattordicenni di oggi semplicemente Milo ha la sua prima cotta c'è questa ragazzina che per le convenzioni dell'epoca deve starsene a casa perché le avventure sono per i maschi e non per le ragazze e pensa a lei mentre è in viaggio e si ripropone al ritorno di farla diventare un'esploratrice lui si sente diventato un esploratore e ha voglia di si ripropone in future avventure di partire insieme a lei quindi è anche un pioniere dei diritti civili senza saperlo esatto anzi dichiarato proprio alla fine non starà a casa perché così deve essere e ci sono per sé che è soltanto una persona lungimirante perché al di là della storia sociale del nostro paese per cui incredibilmente ci sono ancora oggi maschi convinti che il posto delle donne sia la cucina e in realtà proprio in questi anni segnatamente con il primo conflitto mondiale con la grande guerra per la prima volta grandi masse femminili si affacciano all'esterno e al mondo del lavoro proprio perché si liberano tanti posti per via della chiamata al fronte di numerose classi di età di uomini certo ci sono anche delle citazioni in questo libro anche in questa è una caratteristica un po' della scrittura della sua scrittura insomma di Enrico Brizzi che ha sempre degli agganci comunque a quello che è il mondo di un ragazzo se parliamo di romanzi di formazione in questo caso parliamo di libri di avventura insomma Jules Verne Salgari sono citazioni a cui si vuole arrivare con questo racconto ci si è ispirati un po' agli scrittori che hanno raccontato i ragazzi alle prese con avventure forse più grandi di loro come in questo caso no? Sì le avventure sono diciamo per definizione più grandi di noi soprattutto quando noi siamo molto giovani e è giusto quello che dici nel senso che quando si vuole ricreare il mondo di un personaggio secondo me è inevitabile anche provare a immaginarsi quali sono i suoi miti quali sono i suoi orizzonti mentali e se Jules Verne o i liberati mi lo legge Sandokan insomma certo Sandokan e Ianez hanno fatto parte dell'universo mentale o i testi di Kipling ambientati in India hanno fatto parte e segnato profondamente l'immaginario di un ragazzino come me che è cresciuto fra gli anni 70 e 80 del 900 credo che a maggior ragione fosse quasi inevitabile citarli qua e sono ripresi anche da Luca con delle mappe che vabbè io sono un feticista delle mappe credo che le mappe siano l'unico oggetto che valgono più di quanto costano sostanzialmente perché con 8 euro 10 euro ti permettono di andare libero per il mondo reale o per una plaga che molto spesso puoi percorrere per 2 o 3 giorni e poi riprendere in mano e tornarci e percorrerla in lungo e in largo per cui è anche l'unico oggetto che colleziono a casa un baule di mappe di posti in cui sono stato e di posti in cui mi piacerebbe andare e non ho ancora mai messo piede e i libri di una volta che parlavano di viaggio avevano le mappe come un componente fondamentale e anche qui non sono poche in effetti e quindi era necessario inserirla anche qui certo Luca si è sbizzarrito poi con queste mappe che ci spiegano dov'è il Caracorum tra l'altro in una regione oggi davvero inaccessibile forse ancora più di allora nonostante sia cambiato l'alpinismo nonostante siano cambiate tante cose i mezzi di trasporto qui invece è davvero una regione con grandi problematiche civili sociali parliamo di Kashmir e parliamo dei confini con l'Afghanistan sì sicuramente come sa meglio di noi chi compie spedizioni d'alta quota o trek impegnativi da quelle parti parliamo di zone che vivono un dramma quotidiano di fatto e zone che sono poi anche legate cioè se sono conosciute in Europa ancora una volta il merito è in buona parte degli italiani per alcuni disegni di questo libro e più in generale per la conoscenza di quelle valli e quelle vette tutto il mondo dell'alpinismo occidentale si è basato sulle mappe che sono state tracciate in quel viaggio e sulle foto veramente incredibili di Sella che era il fotografo ufficiale della spedizione e questo per dire che a volte i contatti fra occidente ricco e le zone più impervie dell'Asia del tetto del mondo sono al centro di un dialogo che magari è cominciato un secolo fa o più di un secolo fa e ancora oggi è tutt'altro che risolto non perché il ghiacciaio del Baltoro debba diventare simile a quelli del Monte Bianco o le valli debbano diventare simili alle nostre però è abbastanza sconvolgente e toccante l'idea che nemmeno il minimo sindacale di benessere e sicurezza abbia ancora raggiunto molti angoli del mondo che sono peraltro in molti casi i più ambiti e i più desiderati da chi prova in sé lo spirito dell'avventura il fuoco dell'avventura il fascino è assolutamente indiscutibile questo evidenzia come tra l'altro Sella è tra i personaggi che ritroviamo citati quindi da un punto di vista storico questo libro pensato per i bambini comunque ricostruisce una spedizione con l'attenzione davvero alla realtà dei fatti e poi in alcuni casi non lo so se penso a Kipling su uno sfondo reale si potevano muovere anche personaggi d'avventura Salgari è un esempio ancora più chiaro di questo lavoro di documentazione condotto nel suo caso direttamente da dentro casa propria esatto senza mettere piede nei luoghi che poi raccontava sui quali però si documentava potentemente e e questo credo che sia una lezione valida ancora oggi cioè per molto spesso per raccontare una buona storia di fantasia è utile muoversi da una documentazione severa rigorosa e poi inizia il gioco da lì una cosa la diciamo c'è un segreto fisico c'è un tesoro proprio d'oro e ci sono due due ragazzini che dall'alto della saggezza che solo due ragazzini possono avere decidono di non dirlo agli adulti altrimenti rovinano tutto questo è un passaggio fondamentale altrimenti poi chissà cosa combinano per questo tesoro ma i ragazzini che noi siamo abituati come adulti a considerare inconsapevoli in realtà se semplicemente torniamo con la memoria al tempo in cui eravamo noi ragazzini si capisce che così sprovveduti non sono cioè molto spesso si decide di mantenere se torno con la mente semplicemente ai giochi che facevo con mio fratello da piccoli o con gli amici a volte si tengono nascoste delle marachelle perché se no arriverebbe una punizione questo diciamo è il grado zero dei segreti tra bambini una semplice prudenza altre volte invece sono molto lungimiranti i ragazzini sanno che gli adulti hanno non soltanto più esperienza e più potere di loro ma molte volte hanno anche più difetti i ragazzini non conoscono di solito l'avidità per loro il senso della competizione è qualcosa che si risolve sul campo e non non si proietta su una dimensione di rancore permanente o di rivalità ci aveviamo quel crescere dunque e quindi molto spesso semplicemente con saggezza e prudenza come in questo caso Milo e il suo amico sanno che agli adulti è meglio non raccontare tutto e questo avviene anche sul caracoro ma non svegliamo altro io ringrazio naturalmente Enrico Brizzi attendiamo il termine magari del disegno di Luca Caimmi che poi conserveremo con cura ultima domanda per Enrico Brizzi manca il quarto capitolo del Giro Psicoatletico d'Italia come si chiama manca il quarto dove si si arriverà il il Gran Giro Psicoatletico d'Italia è semplicemente un circuito di quattro viaggi sulle orme della della grande storia italiana il primo è stato da Roma a Venezia quindi 800 chilometri ispirati al al viaggio di Garibaldi a Anita nel 1849 quando cade la Repubblica Romana compiuti tutti a piedi compiuti in realtà la povera Anita in parte anche a cavallo ma senza riuscire come sappiamo a portarla a termine perché nelle valli di Comacchio si interrompe tragicamente quindi Venezia era soltanto l'obiettivo ideale che non riusciranno a raggiungere e che invece con i miei compagni di viaggio ho voluto toccare proprio per omaggiarli in sostanza passando dai luoghi in cui sono state combattute le battaglie principali battaglie che erano poi tentativi di sfuggire alla morsa di eserciti da parte di un di un gruppo di volontari che poteva solo scappare sostanzialmente e naturalmente siamo passati anche dalle valli di Comacchio e dalla casa in cui Anita Garibaldi è morta e il secondo spostandoci un po' più in zona dal punto di vista geografico e un po' più in qua negli anni ha riguardato siamo ripartiti da Venezia dove eravamo arrivati l'anno prima e siamo arrivati a Riva del Garda spostandoci all'inizio da Venezia verso Trieste Gorizia e Trieste e poi ripercorrendo già prima sul Piave ma continuando a ripercorrere quelle che sono state le linee principali del fronte durante la Grande Guerra e quindi prima e dopo Caporetto di fatto abbiamo camminato quindi in Veneto in Friuli Venezia Giulia nel parco delle Dolomiti Friulane poi siamo entrati in Trentino in Alto Adige e siamo arrivati a Riva del Garda da lì siamo ripartiti l'anno scorso per quello che abbiamo chiamato il Giro dell'Alta Italia che in realtà è stata dal punto di vista pratico una traversata della Lombardia della Valle d'Aoste del Piemonte per arrivare a Torino io sono stato tanti anni negli scout e uno dei miti fondativi dello scoutismo italiano è l'epopea delle aquile randage il fascismo proibì gli scout come forma associativa non allineata al partito non allineata al totalitarismo e molti gruppi di scout principalmente lombardi continuarono a fare attività di nascosto rifugiandosi in varie valli a un certo punto stabilendo una vera e propria base nella Val Codera è una valle che ancora oggi non ha nessun tipo di strada carrabile o ci vai a piedi o non ci vai e quindi era ideale come luogo mitico da raggiungere e sulle tracce di questi scout resistenti e di tanti altri patrioti che in sostanza hanno aiutato dei perseguitati a scappare chi in Svizzera chi in Francia abbiamo camminato fino a Torino e in giro di quest'anno dovendosi chiudere l'anello verso Roma e partendo da Torino è stato fatale chiamarlo giro delle capitali perché è la Torino a Firenze a Roma e la capitale attuale insomma questo sarà l'ultimo pezzettino di fatica anche in questo caso un viaggio da compiere partendo da quella che è la storia del nostro paese quindi da quella che è una realtà questo quindi chiude anche la nostra chiacchierata grazie a Enrico Brizzi grazie a Luca Caimme grazie a te grazie a voi grazie a te 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 grazie a te